Onorato perché dopo molti anni, che erano due dieci anni, posso suonare questa chitarra ancora, per merito del comandante Carlo Cicciò. No, 15 anni esatto, 15 anni esatto. E questa è una canzone molto importante, perché è un altro me. Un altro me, lo sapete bene di cosa parla, non va l'altro. Parla di persone che muoiono al lavoro. Lo so, siamo obsoleti, la Nielo Sanco e i poveri noi, siamo obsoleti, perché non ci caga nessuno. E sapete perché? Perché nessuno viene più in mente di dire, voglio pensare. Nessuno, soprattutto in un momento come questo. E va benissimo, ci mancherebbe altro. Coppa nostra, dovremmo fare qualcosa di diverso. La trap, la scex, la snas, la snas, ma non possiamo farlo. Per due motivi. Uno, perché abbiamo una certa età. E il secondo motivo che è più importante, non possiamo farlo perché non ce lo sentiamo. Quindi continuiamo a cantare di persone che muoiono sul posto di lavoro. Continuiamo a cantare di persone che non hanno voce. E continuiamo a cantare queste cose perché ci siete voi. Se voi non ci poste, noi non siamo nessuno. Ricordatevolo sempre bene. Non ringraziatemi più, non voglio più essere ringraziato a nessuno di voi. Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi. Questo è chiaro? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.